Vittoriana Passani Sono contenta, speriamo bene, secondo me gli sono piaciuta come ho trasformato la ragazza, secondo me è bene Sei soddisfatta di questa esperienza? Sì, direi proprio ho fatto tante cose belle, tutte cose proprio mie che mi piacevano per cui penso che sì, sono stata soddisfatta L'unica cosa è che non sono riuscita a vedere niente ancora di questa vacanza, non sono riuscita a scendere ancora in nessun porto, spero domani Sì, di farcela Cosa porti a casa di nuovo? Allora, tanti amici, conosci un sacco di colleghi, sono tutti simpaticissimi E poi queste cose che hanno un po' la teoria, la storia dell'abbigliamento, la storia dei capelli, tutte queste cose che sono state molto interessanti, infatti ho fatto tantissimi appunti su queste cose Per cui cose di nozioni nuove, informazioni nuove Grazie Prego, ciao Ciao